Vorresti partecipare al corso di disegno ma non sei sicuro? Questo video è per te! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te! Come state? Lo so, lo so che ieri ho mandato online un video e poi l'ho tolto subito. Sapete perché l'ho tolto? Perché avevo un gloss che mi faceva un filino orribile mentre parlavo e se facevo schifo a me stessa mentre lo guardavo non oso immaginare a voi. Quindi vi chiedo scusa per l'appiccicaticcio del mio gloss di ieri e rifaccio il video. Certo perderà un po' di spontaneità però credo anche che darò la stessa enfasi perché quello che ho detto nel video ieri sono cose che penso realmente. E che quindi sgorgando dal cuore non potranno poi perdere così tanto entusiasmo. Ieri vi ho detto che sta per ricominciare il corso di disegno di arte per te. Qui in sovraimpressione vedete la data di inizio del corso. Bene in tantissimi veramente in tantissimi tanto da spingermi a fare un video come questo mi avete scritto in privato e mi avete scritto in privato attestandomi la vostra stima il vostro affetto e confessandomi che vi sarebbe tanto piaciuto fare il corso di disegno. Ma che per vari motivi decidevate di procrastinare all'anno prossimo. C'è chi lo faceva perché i figli quest'anno avevano un anno impegnativo a scuola, perché la mamma aveva bisogno dell'aiuto, perché si immaginavano un anno lavorativo molto impegnativo. Insomma mille motivi per mettere da parte se stessi e i propri desideri. E io proprio qui voglio inserirmi. Ragazzi non rimandate, non rimandate a un domani il desiderio che avete oggi. In primis perché le condizioni del corso così come sono oggi, oggi sono così e non so per quanto potrò mantenerle. Il costo del corso oggi è di 152 euro ed è l'iscrizione per accedere a 5 anni di corso di disegno. 5 anni in cui avrete me che passo passo vi aiuto a sviluppare una dote che avete già palesa in voi o un desiderio che vorrete trasformare in una dote, in una competenza, in un ampliamento culturale. 5 anni per relazionarvi a persone con la vostra stessa passione, per allargare il giro della vostra quotidianità, per impegnarvi su qualcosa che vi piace davvero. Sì, è vero. Gli impegni sono tanti, la vita è frenetica, il sistema ci vuole sempre a lavorare per spendere, lavorare per pagare, lavorare e guadagnare per pagare i vari debiti che si hanno. Ma è anche vero che bisogna vivere un po' anche per se stessi e che le persone che ci circondano nel vederci più soddisfatte saranno sicuramente contente. Nel vedere i nostri prodotti saranno sicuramente emozionate tanto quanto noi. Se vi va di fare il corso di disegno, non indugiate. È un'opportunità unica che vi si pone innanzi. È un corso bellissimo, fatto di amicizia, di gioia, di passione. Fatto anche di disegno, sapete? Il primo anno imparerete ad osservare la realtà. Perché voi in questo momento pensate di conoscerla, io vi assicuro che non è affatto così. Imparerete a guardare le cose, ad osservarle profondamente, a vederne ogni meandro, ogni spigolo, ogni ombra, ogni parte più oscura e ogni parte più in luce. Impareremo ad usare questo strumento magnifico che dalla realtà può portare su un foglio tutto ciò che ci circonda attraverso la nostra osservazione. La matita e i suoi mille risvolti cromatici che impareremo a scoprire durante il primo anno, che sarà basato quindi sullo studio del chiaroscuro e dell'osservazione della realtà. Per poi passare ad un secondo anno ricco di colori, in cui prenderemo le matite colorate e le declineremo nelle mille sfumature della vita reale. Impareremo a mescere i colori, a saperli usare, a saperli accoppiare, a saper rendere un messaggio tramite un elemento cromatico. Il terzo anno sarà l'anno della fusione delle tecniche, arriveranno le polveri, i pastelli, tutto quel disegno voluttuoso e avvolgente che vi farà sognare, immergere nei vostri lavori. Il quarto anno le tecniche miste, quindi le tecniche di disegno che vi permetteranno di esprimere il vostro vero io. E il quinto anno la scoperta del proprio stile, la scoperta dell'individualità del disegno, dell'essere autori realmente delle proprie opere, non semplicemente dei copisti. Volete davvero perdervi tutto questo? Volete perdervi la possibilità di accrescere una cultura anche in termini di disegno pratico, quindi scoprire quelli che sono i segreti della grammatica compositiva di un'opera d'arte, scoprire la sezione aurea, scoprire la prospettiva, ma non in termini barbosi e noiosi di lezioni frontali, ma in termini pratici, scoprire queste cose mettendole in pratica, scoprirle nella propria conoscenza atavica. E allora prendetevi quest'oretta settimana e questi attimi durante il vostro mese per disegnare, per tirare fuori dal cassetto quel sogno che troppe volte avete deposto all'interno di quel cassettaccio che tenete sempre chiuso. Tirate fuori la chiave del cassetto e apritelo e iscrivetevi al corso di disegno di arte per te. Il come si compone il corso di disegno ve lo ricordo, vi ho detto che dura 5 anni, vi ho detto che il costo è 152 euro, per iscrivervi vi basterà mandarmi un messaggio privato sulla pagina Facebook di arte per te, pennello bianco sul fondo rosso. Quindi ci vedremo la sera del 19 alle 20 e io in quella sera vi darò il benvenuto e vi assegnerò i compiti che dovrete svolgere con le date di pubblicazione. I compiti vostri svolti li pubblicherete in base alle varie date che vi verranno assegnate sulla pagina Facebook di arte per te, in un luogo che vi verrà indicato. Non vi preoccupate per l'espletamento pratico del corso perché è molto semplice, vi verrà spiegato passo passo. Sarà agevolissimo far parte del corso. Quindi io correggerò i vostri compiti dal vivo con voi, ne discuteremo insieme durante la diretta che ci sarà il giovedì successivo o il giovedì in cui dovrete postare il compito. Ogni giovedì ci sarà una lezione ma sarà riferita a un anno differente. Comincieremo per esempio col quarto anno, poi col terzo, col secondo, col primo, ma tutti i giovedì vi consiglio di essere collegati indipendentemente dal fatto che la lezione riguarda il vostro anno oppure no. Perché essendo lezioni discursive basate sui casi reali delle problematiche del disegno, riguardano tutti a qualunque anno. Ci saranno lezioni del primo anno che riguarderanno i ragazzi del quarto, del terzo e del secondo. Come ci saranno lezioni del quarto anno che saranno interessantissime da ascoltare anche per i ragazzi del primo, del secondo e del terzo. Non induggiate, non abbiate paura di farvi un regalo. Un regalo veramente da poco. Io sfido chiunque a trovare un corso che dura 5 anni a 152 euro ragazzi. 152 euro totali, non per anno. In più, corredo semplicissimo, tutte le matite della gamma B, dalla 2 alla 8, gomma pane, gomma siliconica, tempera matita, qualche sfumino e cos'altro. Gli album, uno ruvido e uno liscio. Questo è il corredo del primo anno. Poi vi verrà data la lista dei materiali a tutti gli anni, insomma chi è già dentro lo sa. Se qualcuno che fa parte del corso di disegno vuole lasciare il proprio feedback sotto al video, ve ne sarei grata per incoraggiare ancora coloro che sono incerti. Ma io questo video non soltanto lo rivolgo a chi sta passando e non sapeva del corso, ma lo rivolgo proprio alle persone che mi hanno scritte con quel tono nostalgico del vorrei ma non posso. Volere è potere. Quindi se vuoi, puoi. Per me l'anno scorso è stato un anno che sarebbe stato impossibile nella mia mente, ma non me lo sono raccontato. Mi sono seduta, capo basso e ho fatto. Le cose vanno fatte. Non va immaginato il loro peso nel farle. Vedrete che vi verrà semplicissimo e sarà bellissimo condividere un anno insieme. Non mi rimane che salutarvi. Se volete iscrivervi vi aspetto sui messaggi privati di Facebook di Arte per Te. E vi mando un grande bacio sperando di vedervi tutti al corso di disegno, che è il corso principale del canale Arte per Te. Il corso di disegno è propedeutico a tutti gli altri corsi. Mi spiego, se fate il corso di disegno potrete affrontare in maniera consapevole, più partecipata, più vissuta, più autentica tutti gli altri corsi. Perché il disegno è alla base dell'arte. Bene, non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta. Ciao, vi aspetto!